Prima dell'approvazione della riforma sanitaria regionale che arriverà entro ferragosto 2022, il presidente Acquaroli e l'assessore alla sanità Saltamartini hanno deciso di iniziare un confronto con i territori regionali per cercare di spiegare i punti salienti. La prima tappa è stata proprio Pesaro, che negli ultimi giorni, proprio in vista della proposta di riforma fatta dalla giunta regionale, aveva storto il naso con il sindaco Ricci a lamentare un'eccessiva centralità sanitaria attorno Ancona e un abbandono degli altri territori provinciali. Acquaroli però questa mattina ha cercato di chiarire come quello intrapreso dalla regione sia però un percorso conveniente sia per l'interesse pubblico che per i sanitari, volto a garantire un miglioramento delle prestazioni. Il contatto di operatori della sanità di Marche Nord è emerso una curiosità, un apprezzamento per la nostra iniziativa e tante tante proposte e un'interlocuzione che è sicuramente utile a noi per spiegare bene quello che è il cuore pulsante di questa riforma e a noi anche per raccogliere le proposte ma credo che sia stata molto utile anche per loro per cogliere lo spirito di questa riforma che è aggiungere più competitività e adeguare le aziende ospedaliere alla sfida che comporta l'anno che corre 2022. Il rapporto, l'interlocuzione tra l'ospedale e il territorio è fondamentale, è fondamentale sia per dare risposte immediate ma anche per costruire azioni di prevenzione e credo che la sanità debba sempre di più dialogare e farlo in maniera costruttiva. Il senso, il cuore di questa riforma è proprio quello di voler mettere in campo maggiori risorse e ottimizzare quelle esistenti e non di togliere o addirittura di andare a dividere. Mobilità passiva, centralità dei sindaci, coinvolgimento dei cittadini e ammodernamento del sistema digitale come la telemedicina. Sono questi quattro i punti salienti della riforma sanitaria in questione che cerca di rispondere alle nuove esigenze che la società attuale necessita, stando dunque al passo con i tempi. Noi intendiamo rafforzare la sanità della provincia di Pesaro Urbino proprio per dare tutte quelle prestazioni che oggi i pesaresi vanno a richiedere in Emilia Romagna ormai da oltre dieci anni. Quindi abbiamo confermato il potenziamento delle alte specializzazioni perché ci sono delle professionalità importanti. Abbiamo detto ai primari, a tutti i medici, a tutto il personale della sanità che la risorsa deve essere valorizzata appunto perché ogni professionista vuole una crescita professionale. Quindi abbiamo voluto garantire e sottolineare l'impegno della regione e dei prossimi investimenti sulla provincia di Pesaro. Nella legge 13 insieme al presidente Acquaroli abbiamo voluto che i sindaci avesse un ruolo straordinariamente importante. Oggi i sindaci non hanno neppure espresso un parere sul piano sociosanitario vigente. Nel futuro dovranno esprimere un parere sui bilanci preventivi, rendiconti, consuntivi, gli atti di programmazione e addirittura potranno esprimere un parere sul valore, sulla qualità e capacità dei direttori generali. Ho rimesso al centro anche l'importanza di avviare un processo di democratizzazione coinvolgendo i cittadini i quali potranno esprimere addirittura il grado di soddisfazione delle prestazioni. Potranno dare le pagelle sostanzialmente ai servizi sanitari. E poi, non per ultimo, nella legge ho voluto proprio io porre nelle dirette responsabilità dei direttori generali gli URPI, gli Uffici di Relazioni con il Pubblico. Oggi se un cittadino chiama un ufficio sanitario non risponde nessuno. Nella visione, nella riforma, ci dovranno essere delle persone che devono dare conto ai cittadini nei loro bisogni.